In Italia si è sviluppata dopo il libretto, il libello, una bella letteratura autocritica sulla comunicazione che si fonda su due parole chiave. La prima è che a nostro giudizio gli studiosi di comunicazione e qualche volta anche quelli di marketing, questo lo dico perché tra un po' tocca abbattiarci, sono stati più un pezzetto della comunicazione che un pezzetto della critica alla comunicazione. E di questo noi ormai siamo assolutamente consapevoli, particolarmente grave all'università perché poi se insegni soltanto le bellezze della comunicazione, e la comunicazione ha anche altri sottotesti, il populismo che ha vinto in Italia negli ultimi 20 anni non può essere considerato soltanto un regalo di una cattiva politica o di quella che il maestro che sta accanto ha chiamato il festival, il carnevale televisivo degli ultimi 20 anni. È una citazione dall'intervento di Bernabé al seminario organizzato con la RAI da dirigenti. Però siamo andati così avanti che mi tocca fare una citazione per integrare le letture di Mirabella anche in vista degli incarichi del prossimo anno. La rivista Paradoxa, così loro amano chiama Arzzi in genere, non lo pronunciavamo Paradoxa, è una rivista di filosofi diretta da una deliziosa filosofa che è la Paoletti, ha curato un numero critico sulla comunicazione intitolandola, scelta loro, i guasti della comunicazione. Quindi noi non stiamo qui a raccontare solo le bellezze, io ho curato tra l'altro, la rivista l'ha curato, ma il professore che ha gestito la scelta dei contributors sono io stesso, quindi non solo faccio pubblicità nel mio articolo, ma lo faccio perché nessuno si illuda di pensare che noi stiamo qui soltanto a insegnare l'euforia della comunicazione. Non crediamo minimamente, anzi crediamo di dover una piccola autocritica pubblica sugli eccessi di euforia che anche in questa sala non sono mancati nei decenni precedenti. Temo di essere stato anch'io un pezzetto di quell'euforia, quindi per quella parte faccia autocritica. Uno che non ha fatto pubblicità all'euforia è appunto quello che sta per parlare, che è Ettore Bernabè, in passato ovviamente nelle aule universitarie preso abbastanza in Berlina, oggi sottoposto a un profondo revisionismo, per cui distinguendomi da quello che ha detto Domenico, anche quando noi non siamo d'accordo con gli argomenti di Bernabè, siamo però favorevoli a Bernabè. Ringrazio il professor Morcellini per questa citazione, oltre che per l'invito, e saluto cordialmente tutti gli intervenuti. Mi ha fatto piacere, anche se mi scuso del ritardo con il quale sono arrivato qui, ho con piacere accettato di dare un contributo, un contributo che può sembrare ad alcuni anche un po' strano, ma però sta per scadere la convenzione tra la RAI e lo Stato. E' quindi il momento opportuno per proporre dei sistemi per assicurare a questo Paese un buon servizio pubblico. Ma non sembri un luogo comune a dire che oggi un vero servizio pubblico, per quanto se ne può vedere e sapere, è quello che in Inghilterra svolge la BBC. Ma perché? Anche lì la BBC è un organismo umano, ha i suoi limiti, tante volte i suoi operatori sbagliano anche loro. Innanzitutto è un organismo, espressione del governo. Il governo è l'espressione legittima della volontà degli elettori, quindi meglio di così. E' inutile illudersi di altre fantasticherie. Il servizio pubblico radio-televisivo deve dipendere, cioè deve essere espressione del governo. Gli elettori sanno come cambiare governo legittimamente, senza rivoluzioni, senza colpi di Stato. E quindi il governo ha la responsabilità di quello come avviene in Inghilterra. Quando il governo ritiene che il direttore generale abbia sbagliato l'indirizzo politico, anche, e si è avvenuto meno ai suoi doveri che sono quelli di difendere gli interessi reali dei cittadini. E qui vengono sentite tante espressioni giuste di servizio pubblico, ma il compito essenziale di un servizio pubblico radio-televisivo è quello che un tempo esercitavano le forze armate. difendere gli interessi essenziali di una popolazione, di una comunità, di una zona geografica, visto che siamo in tempi di globalizzazione, più o meno vera, più o meno mascherata, ma siamo in tempi anche di grandi agglomerati geopolitici. Noi facciamo parte dell'Europa come nel Nord America, una grande parte delle persone che vi abitano fanno parte degli Stati Uniti d'America, un miliardo e trecentomila persone fanno parte della nazione cinese, che è anche quello un grande conglomerato di cultura, di civiltà, di interessi con i suoi limiti, con i suoi errori. quindi il servizio pubblico radio-televisivo deve difendere innanzitutto gli interessi di una popolazione che parla quella lingua. È un concetto abbastanza semplice ed elementare. E allora ecco perché bisogna pensarci bene alla struttura anche di questo organismo. il prof. Morcellini ha avuto l'amabilità di dire la mia sapienza. No, la mia sapienza. La sapienza è qui. Sì, sì, sì. Io credo all'esercizio primario dell'insegnamento universitario. E quindi non per un complimento a dove ci troviamo e a chi ne è il responsabile. Io credo che l'ente radio-televisivo di servizio pubblico in Italia debba essere assicurato da una società per azioni il cui capitale sia in maggioranza assoluta cioè almeno il 75% dello Stato ma non del governo come attualmente. attualmente la RAI è posseduta interamente dal tesoro quindi è un'azienda di Stato handicappata da tutte le limitazioni delle aziende di Stato. allora una public company in cui la minoranza la minoranza con certe va in borsa io conosco bene ora non si può ci si può addentrare tutti i limiti e le e le critiche che si possono fare alla borsa valori però un 25% di cui nessuno può possedere più del 1% quindi per impedire scalate che poi potrebbero in qualche maniera condizionare questo sistema di partecipazione pubblica e partecipazione privata dà veramente un'autonomia a quella società in cui per convenzione tra lo Stato e il concessionario viene stabilito che il governo indica le cariche di questa società i responsabili cioè i responsabili di che cosa? i responsabili delle trasmissioni i responsabili dei contenuti dei programmi che devono difendere gli interessi effettivi della popolazione che oggi è inutile la maggior parte di questo uditorio sa bene come vanno le cose del mondo sono più o meno strumentalizzati da chi ha i poteri internazionali di esercitare fino a ieri il potere finanziario che è stato quadrone del potere politico quindi anche i discorsi sarebbero troppo lunghi ma giustamente come ha accennato qualcuno non sono più gli uomini della finanza anche della grande finanza a guidare il mondo perché sono gli uomini che purtroppo si trovano a essere i responsabili sono stati fatti i nomi dei grandi motori della comunicazione in rete e google facebook e tutti quelli e anche delle giustamente qualcuno ha citato gli interessi dei promotori delle apparecchiature che si saranno soni altri ma anche fabbricanti di apparecchi televisivi ma sono soprattutto altri tipo apple microsoft eccetera eccetera quindi il primo dovere di un ente radio televisivo di servizio pubblico convenzionato con lo stato italiano è quello di difendere i cittadini qualcuno lo ha definito lo sciecheraggio che esercitano i vari signori della rete sciecheraggio la differenza però che mentre un un buon operatore di sciecher si prefigge di preparare una buona bevanda purtroppo queste bevande sono fatte per annebbiare o annullare le facoltà intellettuali e soprattutto le facoltà volontarie della libertà di ciascuna persona di scegliere tra il vero e il falso tra il bene e il male perché ci sono pochissime grandimenti che pensano che cos'è per tutti il bene il male il vero il falso non rimane che il servizio pubblico radio televisivo per salvarci da queste sciagure scusate se sono un po' uso termini forse eccessivi ma e quindi vengo poi all'ultimo capitolo diciamo di un'eventuale proposta che andrebbe studiata dai vostri organi universitari perché ha molti risvolti culturali prima di tutto letterari artistici perché intendiamoci bene il il problema di difendere la maniera migliore migliore per difendere gli interessi dei cittadini è di fornirli informazioni e intrattenimenti di buona qualità qualcuno ha parlato giustamente dell'attuale predominanza delle anche dell'informazione dell'intrattenimento radio televisivo americano e si tratta di vedere anche lì chi è capace di produrre buoni prodotti buona comunicazione quando ora scusate se faccio un ma ognuno è se faccio un accenno personale a una società in cui io sono ormai sono solo il presidente onorario ma io sono stato l'iniziatore quando questa società ha fatto una coproduzione innanzitutto con la RAI ma con la NBC americana questa produzione che era un film della Bibbia o meglio del Nuovo Testamento per essere più precisi la NBC è passata dai suoi normali 20 milioni di ascoltatori degli spettacoli di fiction a 40 milioni di spettatori e pertanto ha quasi raddoppiato i suoi proventi di pubblicità inerenti a quella sede a quello spettacolo a quella cosa allora buona qualità perché servizio pubblico non vuol dire avere un primato e vengo in definitiva e chiudo alla questione famosa del canone io penso per la mia esperienza anche che il canone sia si possa abolire anche perché diciamocelo pure io ne sono stato un difensore ma non è tanto facile sostenere l'utilità sì ma la popolarità e il gradimento di pagare il canone è un po' difficile e anche convincere gli evasori a pagarlo credo sia molto arduo io credo che il canone possa essere abolito un mulatore che mi ha preceduto ha fatto un cenno al sistema tedesco il sistema tedesco mi sembra che sia buono io so tutte le critiche che si possono fare ai tedeschi in questo momento negli anni precedenti che ci hanno preceduto o anche nell'immediato futuro però cioè si può abolire il canone e istituire una tassa che tutti comprenderebbero giusta su tutte le apparecchiature su tutti i mezzi di mettersi in contatto con qualunque forma di comunicazione lo so che qualcuno non si limita a evadere le tasse nei paesi dove trasmette in rete quello che gli pare ma è una forma legittima che ogni paese può adottare ecco e naturalmente quella società pubblica a capitale misto avrebbe tutto il diritto dovere di convenzionarsi con lo Stato e lo Stato avrebbe il dovere e anche l'interesse a convenzionarsi con quella società per il servizio pubblico che rende e quindi farsi carico di quella possibilmente valutabile credo apporto dato dalla società di servizio pubblico come il resto perché nulla di nuovo sotto il sole un tempo esistevano c'erano tante convenzioni con la RAI e lo Stato per servizi che la RAI rendeva in esclusiva allo Stato italiano e quindi la gente sarebbe tranquilla e avrebbe perché non tutti sono colti compresi del bene pubblico tanta gente distratta tanta gente però dovrebbe essere sempre attratta dalla qualità di primo livello dei programmi della radio televisione di servizio pubblico e quindi sentirsi tutelata nei propri interessi reali funzioni che del resto esercita anche la la stampa la comunicazione attraverso la stampa scritta e quindi io mi scuso se ho avuto l'ardire di scendere così nei particolari ma penso che sia un momento in cui riflettere veramente che nel nostro paese la radio televisione può essere un servizio di sicurezza pubblica grazie grazie speriamo che anche nelle prossime puntate possiamo avere qualche pillola di saggezza e confermo ovviamente al dottor Bernabèi oltre che la nostra immutabile simpatia anche il fatto che noi siamo qui per difendere e rinovellare userò questo verbo il servizio pubblico lo possiamo fare soltanto in questo modo aumentando il pensiero e la discussione pubblica grazie del suo contributo